Una tranquilla giornata in Padania Io non ho capito una cosa però ragazzi perché deve vincere qualcuno cioè non potremmo dividere i punti equamente Ma qualcosa stava cambiando Oh mio Dio è rossa Pronto sta? Sì sì il pallone il pallone è diventato rosso com'è possibile? Nessuno era al sicuro Buongiorno, benvenuti al Meteo Padano Aggiornamento sulla citazione del Nord Italia Questa settimana sono previste perturbazioni rosse dall'Unione Sovietica Arrivederci e buona giornata Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa Un virus inarrestabile Sì, sì Fede, no guarda, questa è l'unica possibilità, no no se non ce la può dire lui, no no Devo parlare con il Santone Santone la prego, lei è l'unico, ci dica cosa dobbiamo fare, ci deve essere un modo per fermarlo Sì potreste venire, è la cena sociale che stiamo organizzando per questa sera No, no ma non è possibile, ma, 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 ma voi siete la Lega Certo, la Lega deve fare opportunità Oh mio Dio, la lombra, sono diventate rossa È finita Sono tutti comunisti Cristo santo Siamo gli ultimi due rimasti Federico Che cazzo possiamo fare? C'è lei che c'è o lo che li mettiamo in comune? C'è lei che c'è o lo che li mettiamo in comune?